Musica 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 Ciao ragazzi sono le Midebe65 Dunque Insomma avete visto pochi giorni fa in un video di aggiornamento Ma purtroppo mi tocca a fare un altro Anzi no purtroppo Per fortuna mi tocca a fare un altro Perché finalmente ieri sera Siamo arrivati al numero 100 iscritti Come promesso Per i 100 iscritti avevo detto che Facevo un concorso Quindi vi farò così Dunque vi dico un minimo le regole che ci saranno Dunque innanzitutto Vabbè dovete essere inseriti al mio canale Ma mi sembra la cosa minima La richiesta minima per il concorso Poi Come tema ho scelto un tema molto semplice Così che possiate partecipare tutti Il più gente possibile dunque Voglio che mi facciate un video In cui mi proponete la vostra personale Top 3 E flop 3 dei videogiochi che avete giocato Quindi non so Ma su qualsiasi console Quindi avete molta libertà in questo senso Volevo mi facciate vedere i tre giochi Più belli che avete giocato Quelli che vi sono rimasti fino al cuore E i tre invece le mail Che mi interessa adesso anche dal balcone Che non volessi più vedere Quindi l'idea è molto semplice Proprio per partecipare più gente possibile Come tempo per il concorso Dunque io avrei pensato a due settimane Sembra un tempo ragionevole Dunque oggi è il 4 giugno Quindi ci diamo appuntamento al 18 giugno Che è il 4 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 giugno E poi Ah i premi Dunque io avevo detto che Magari mettevo in paglia un gioco Però insomma ho pensato che Il primo concorso Non so neanche quanta gente partecipa da Quindi per adesso ho deciso di non mettere niente di materiale Anche perchè poi non ho giochi Quindi da qui voglio separarmi in questo momento Quindi non lo so Però comunque come premi Innanzitutto Sponsorizzerò il canale proprio a manetta In tutti i video che farò Metterò il link al canale E poi come è vero è proprio premere per il concorso Darò l'opportunità di un citole Di farmi una qualsiasi richiesta Per il mio prossimo video Quindi mi potrà chiedere di recensioni in particolare Cioè non so Fammi una recensione di Parappa de Rapper Oppure una recensione su una Sada In particolare O uno special di qualche tipo Una classifica Non so ma Sbizzarrite Quindi questo Per quanto riguarda il concorso Desso questo Ah Prima di chiedere il video Voglio consigliarvi un canale più importante Perchè il canale con il David P. Bebo In questo ultimo video mi ha consigliato come canale Quindi vi ho permesso che vi cambiare le parole Ma comunque l'avevo responsabilizzato a breve Perchè è un canale che seguo da parecchio tempo E' un ragazzo che parla anche lui di videogiochi Fa una videota che a me piace molto Si chiama L'angolo del giocatore E tra l'altro la puntata che L'ultima che ha fatto Che ha indicato poco fa E' al numero 17 Quindi è già un po' che va avanti Questa rubrica E quindi Vedere il suo canale Secondo me Può piacere anche a voi Perchè è davvero molto bravo E poi che altro? Ah Come ultima cosa Volevo stamattina accedermi a segno Ho letto la frase Della Mennica Cazzotta Che ha scritto che E' un po' malaticcia Che non sa tanto bene Quindi volevo Far meglio lui Di fronte a guarigione Di penalty Per anche chiudere Perchè ci può raccontare E' un po' che altro dire Non dovrei aver dimenticato niente Comunque Se andate nelle informazioni Qua del video Troverete tutte le informazioni Che mi serviranno Per partecipare al concorso Che mi preoccupate Boh Io Spero parteciperete in tanti Insomma Non fatemi lo scherzo Che arrivo al 18 Cioè Non c'è nessuno da partecipare A meno quella di persone Non mi sembra Una riuscia così Impossibile Comunque Spero parteciperete in tanti E Quindi non ci sentiamo A questo nuovo video Ciao ciao